ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi faremo insieme le tagliatelle al pistacchio per fare le tagliatelle al pistacchio ci serviranno i pistacchi la farina tipo 1 il sale l'acqua e l'olio d'oliva le dosi precise ve le lascio scritte qui sotto come prima cosa ho frullato i pistacchi con l'acqua fino ad ottenere un composto liscio successivamente in un contenitore capiente ho versato la farina e il sale ed ho unito ad essi il composto liquido che avevo appena frullato passiamo il nostro impasto su un piano di lavoro ed impastiamo fino ad ottenere un composto omogeneo versiamo quindi anche l'olio continuando ad impastare finché non si sarà assorbito avvolgiamo il nostro impasto con la pellicola e lasciamolo riposare per circa mezz'ora all'interno del frigo quando avrà riposato il tempo necessario potremmo rimetterlo sul piano di lavoro e dividerlo in tre o quattro pezzi appiattiamo leggermente ogni pezzo con il mattarello e sarà il momento di lavorare l'impasto con la macchina per la pasta io ho appiattito l'impasto stringendo i rulli fino allo scatto numero 4 in tre o quattro dopodiché ho passato la sfoglia all'interno dei rulli per le tagliatelle non è obbligatorio utilizzarli potete anche benissimo tagliare la vostra pasta a mano ricordatevi di tenere il piano di lavoro e la pasta ben infarinati per far sì che non si appiccichi fate bollire l'acqua e cuocete la pasta per circa un minuto non di più ecco qui la vostra pasta fresca al pistacchio è pronta conditela piacimento ed eccoci alla fine della ricetta se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale ciao